Prova la giocata di Fino, cerca cross, salta e colpisce di testa e trova il fondo della rete. Questo è un gol che può decidere una stagione intera. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Se ne va, cross in arrivo. È entrata, l'ha infilata nella sua rete. È un gol così Fabio è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Arriva nella tre quarti avversaria. Se ne va. Può cacciare a rete. Ecco il cross. Può provare. Non si fermano più, ancora segno. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Grazie a tutti.